Allora io che sono italiana e che giustamente sentendo le parole diceva bisogna anche tener conto dei mezzi, dei sindaci che non sanno che gliene arrivano a centinaia di migranti, lo vogliamo dire che... In Europa PD e 5 Stelle stanno organizzando questa cosa qui. Aspetta, non solo di cancellare il terzo criterio di Dublino ma di ampliare la gamba e quindi non solo i profughi rifugiati che scappano da guerre, ma da climatici, da economici, da tutti. Abbiamo i soldi per fare il lavoro dell'Europa? Non credo. Però la gente lo deve sapere, se no... La questione di Dublino che nella sua ultima versione rafforzata è stata votata e approvata dalla maggioranza di centro-destra. La questione di Dublino, il punto di Dublino vero da cambiare è quello che dice che ha responsabilità di accoglienza il paese di arrivo. Ma non lo stai capendo che siamo... State? State? Cancellando l'ingresso illegale. E allora non dire, non sai le cose che si stanno facendo. Allora, scusatemi... E quindi il punto da cambiare di Dublino è questo. E dì a tutti... Cioè del paese... In Italia non si può accollare tutti quelli che sbarcano in Italia, ovviamente.